Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e oggi il nuovo video unboxing Funko Harry Potter è appena arrivato un pacco dal valore di oltre 200€, mi sono davvero svenato per questo video e ragazzi il pacco naturalmente mi arriva dai miei amici di Mini Big World Collectibles io ormai mi fido solo di loro per i pop e a maggior ragione per le esclusive che sono incluse in questo pacco quindi ragazzi vi ricordo il codice sconto serie 5 per avere 5€ di sconto su una spesa minima di 60€ io vi lascio il link sotto in info box, ovviamente non trovate solo pop ma anche tantissimi altri prodotti e uno di questi altri prodotti è incluso in questo pacco e non vedo l'ora di parlarvene anche in un altro video ma direi di dare un taglio alle ciance e di cominciare subito il nostro unboxing ecco qui il pacco ragazzi, come potete vedere è enorme, è pesantissimo ho provveduto solamente a rimuovere qui tutta la parte con l'indirizzo e i documenti di trasporto e non vedo l'ora di aprirlo, quindi bisturi alla mano, cominciamo subito ad incidere il nostro scotch io spero di non fare danni ok, ci sono riuscito ragazzi, lo ammetto non è stato facile, ci è voluto un po' ma eccoci qui, il pacco è aperto e come potete vedere all'interno è tutto super organizzato i ragazzi di Mini Big World fanno davvero dei pacchi a prova di esplosione nucleare e all'interno abbiamo carta, pluriball, pezzi di cartone e poi come potete vedere è tutto organizzato in altre scatole all'interno con tutti i vari pop in modo da non rovinarsi durante il trasporto magari urtando l'uno con l'altro quindi sempre al top il pacco di Mini Big World Collectibles e ragazzi, prima di cominciare con l'unboxing abbiamo anche i nuovi New York Comic Con la nuova wave del ballo del ceppo abbiamo anche la capanna di Hagrid ho davvero fatto tanta tanta spesa ma prima di cominciare vedo già qui una cosa che volevo mostrarvi questa me l'hanno mandata i ragazzi di Mini Big World si tratta del gioco da tavola di Funko questo qui è quello a tema Harry Potter io non so ancora come si gioca a questo gioco le istruzioni sono solamente in inglese ma i ragazzi di Mini Big World stanno già traducendo tutto il regolamento quindi quando avranno finito sicuramente me lo passeranno io realizzerò anche un video dove vi parlerò del gioco più nello specifico magari le regole, faremo una piccola dimostrazione e per quello che mi è stato detto anche i ragazzi di Mini Big World realizzeranno un video in merito quindi io vi consiglio di seguirli ragazzi vi lascio naturalmente tutti i riferimenti sotto in info box e quindi di questo ne parleremo più avanti qualora voi l'aveste già acquistato fatemi sapere sotto nei commenti magari ditemi come si gioca se avete notizie contattatemi in privato io sono tutto orecchi ma adesso direi di cominciare il nostro mega unboxing Funko perfetto ragazzi ho posizionato il cartone qui accanto a me su un supporto così da poter pescare la roba tranquillamente mi sono fornito di questa tessera fedeltà così da poter aprire i pacchetti dei Funko senza rovinarli quindi direi che non manca altro e possiamo già tirare fuori la prima scatola eccola qui e vediamo cosa contiene oltre che ad altro pluriball che io riciclerò sicuramente ecco che abbiamo il primo pop e si tratta del pop di Victor Krum ragazzi io lo desideravo da tanto speravo che uscissero tutti i pop della prova del calice di fuoco quindi volevo caldamente fortemente il pop sia di Krum che di Flair e finalmente siamo stati accontentati quindi vediamo questo qui mi piace tanto che sia stato scelto quello con la divisa di Durmstrang mi piace davvero tanto è molto molto iconico e rappresentativo di Victor quindi bene così sono contento e adesso tiriamolo fuori ed eccolo qui la prima cosa che mi salta all'occhio la prima cosa strana rispetto a tutti gli altri pop è che non ha i capelli è totalmente liscia la testa e questa è una cosa abbastanza strana perché credo sia il primo pop di Harry Potter a non avere i capelli e non ce li ha semplicemente perché per simulare l'effetto rasato li hanno solamente dipinti sulla capoccia liscia però l'effetto rende benissimo è abbastanza somigliante all'attore che ha interpretato Victor Krum in Harry Potter e poi la divisa è perfetta abbiamo il mantello con la pelliccia abbiamo le fasce soprattutto la fibbia con un cervo e ragazzi io direi che non si possa dire assolutamente nulla a questo pop l'unica cosa che magari mi sarebbe piaciuta è che avesse avuto anche il bastone in mano però già mi accontento così è un gran bel vedere io devo dire che il pop di Flair mi piace ma non tanto quanto speravo perché mi sarebbe piaciuta una versione con la divisa di Bubaton quindi qualora dovesse uscire in futuro sicuramente quello di Flair sarebbe uno dei pop che andrei a sostituire immediatamente secondo pop nella scatola ecco che abbiamo il primo New York Comic Con del 2019 abbiamo qui sul fronte il bollino con la Statua della Libertà e con scritto 2019 Fall Convention Limited Edition questo qui è il pop di Gaza naturalmente si sentiva la mancanza di Gaza nella nostra collezione e mi piace tantissimo il fatto che abbiano aggiunto anche Mrs. Spur e non l'hanno aggiunta separatamente anche perché esiste già il Mr. Mini separato ma la tiene tra le braccia per me va benissimo così anche perché non avevo il Mr. Mini di Mrs. Spur e quindi così in un soccolpo ho recuperato sia Gaza che Mrs. Spur ed ecco anche Gaza fuori dalla scatola ragazzi si vede sempre la differenza tra un pop regular e un'esclusiva di uno dei Comic Con americani perché c'è tanta tanta cura in più già si nota a partire dalla stampa sul volto che è molto dettagliato sono state stampate le rughe e poi anche di come sono stati scolpiti i capelli perché abbiamo i suoi capelli lunghi e diradati però sono scolpiti a ciocche singole e l'effetto sulla parte superiore è davvero molto molto bello a me piace molto questo Gaza non è somigliante al 100% vi dirò la verità l'espressione non lo so non mi convince appieno però in ogni caso è un pop che non può mancare nella nostra collezione quindi passiamo adesso alla prossima scatola perché questa è ormai vuota eccola qui questa è un po' più grande è anche più pesante quindi conterrà più pop rispetto alla precedente cosa curiosa dei primi due pop nessuno dei due ha la basetta inclusa nella confezione questa cosa mi turba sempre un pochino perché preferisco i pop con la basetta perché sono più stabili ed è anche più semplice metterli magari in bilico o in posizioni un pochino più strategiche per risparmiare spazio visto che io li tengo fuori dalle box ma adesso ecco qui altri sei pop tutti in scatolati e abbiamo direi di cominciare per forza dalle gemelle Patil qui abbiamo Parvati Patil e poi abbiamo anche Padma Patil praticamente si tratta dello stesso pop credo cambi davvero davvero poco l'unica cosa che è noto di differente è l'acconciatura sul davanti il ciuffo del pop ma io direi di aprirli entrambi e di paragonarli fuori dalle scatole ragazzi vi dirò qualche piccola differenza c'è Padma ha questi due ciuffi che fuoriescono qui dai lati dell'acconciatura mentre questa qua di Parvati no invece lei non ha questi due ciuffetti e poi io direi che Padma ha anche le sopracciglia leggermente più spesse e questo dà uno sguardo un pochino più cattivo al pop e se non ricordo male lei era quella un po' più stronzetta nel film quindi direi che ci sta altra cosa carina da notare è che nonostante gli abiti siano gli stessi e esattamente la stessa scultura non cambia assolutamente nulla nella parte inferiore del pop però i colori sono speculari quindi qui abbiamo in Padma la gonna rossa mentre qui in Parvati abbiamo la gonna rosa e invece la maglietta in questo caso è rosa e in questo caso è rossa quindi vanno esattamente ad essere speculari l'uno con l'altro poi hanno gli stessi orecchini lo stesso trucco sono esattamente uguali ma mi piacciono tantissimo messe accanto e il minuscolo dettaglio delle sopracciglia direi che rendono il pop di Padma abbastanza diverso da quello della sorella da un carattere diverso a pop quindi super super approvati nonostante i miei dubbi iniziali adesso direi di tirare fuori il pop di Flair visto che ne abbiamo già parlato prima ed eccolo qui Flair col suo abito anche lei da ballo del ceppo io non possiedo né il pop di Ron né quello di Ermione ballo del ceppo però non ho intenzione di prenderli anche perché a me interessa avere un personaggio una versione per personaggio quindi non sono interessato ad avere tutti i ragazzi nella versione ballo del ceppo ma mi va bene così e metterò Flair in collezione con questo abito anche Flair senza basetta quinto pop di questa wave nessuno ha la basetta Funko è andata al risparmio il pop comunque è molto molto carino e sul retro non avevo notato dalla scatola abbiamo questo fermaglio in stile fiore ghiacciato che devo dire è stato reso molto molto bene alle orecchie indossa due orecchini due perle a goccia e poi abbiamo questo abito bianco che io non ricordavo ma che sicuramente è l'abito che indossa in Harry Potter e il calice di fuoco finalmente si aggiunge anche Flair alla nostra collezione ultima delle ragazze che hanno partecipato al ballo del ceppo e che io ho acquistato in questo unboxing si tratta di Cho Chang anche lei personaggio che mancava tra gli studenti di Hogwarts delle nostre collezioni anche lei a quanto pare senza la sua basetta ma ormai me ne faccio una ragione ed eccola qui eccola con questo suo abito questa sorta di kimono ed è molto molto bello perché ha un effetto perlescente quindi molto molto bella la pittura le maniche interne sono rosa e abbiamo dei fiori rosa sul bavero quindi molto molto ben fatta dettagli davvero minuscoli ma che fanno la differenza ormai l'abbiamo imparato in Funko e poi qui sulla testa ha anche un piccolo fermaglio a forma di farfalla io sono combattuto devo dirvi la verità non so se mi sarebbe piaciuto avere tutti i personaggi con le divise di Hogwarts o se forse è meglio avere delle varianti con gli abiti del ballo del ceppo con le divise con le divise delle prove in modo da rendere un po' più vivace e dinamica la collezione fatemi sapere voi nei commenti cosa avreste preferito se averli tutti con le divise oppure così in diverse versioni in diverse circostanze perché non lo so io sono combattuto forse è meglio così come sta facendo Funko e avere delle versioni differenti fatemi sapere questo pop me l'ero quasi dimenticato e non mi aspettavo lo facessero così in fretta si tratta di Karkaroff sicuramente mi aspettavo prima di Karkaroff ad esempio il pop di Tonks che tutti stiamo aspettando e che si vocifera potrebbe essere una delle esclusive del Comic Con di Seattle di quest'anno ma adesso tiriamo fuori Karkaroff dalla sua scatola e diamo un'occhiata anche lui senza bastone questo mi dispiace ragazzi settimo pop sempre senza la sua basetta però devo dire che è molto molto bello il pop è somigliantissimo davvero uguale all'attore mi piace tantissimo il pizzetto che non è solo dipinto ma sporge proprio dal mento quindi ottimo lavoro indossa tutti gli anelli anche quella sorta di unghia di metallo che indossa sul mignolino è stata riprodotta e ragazzi non c'è assolutamente nulla da dire anche questo pop ultra approvato ultimo pop di questa scatola abbiamo la professoressa Koeman ragazzi finalmente dopo ben sette pop ecco che abbiamo una basetta è per fortuna perché pesa una quintalata ed ha una testa pesantissima addirittura più pesante rispetto a quella di Bellatrix che credo sia quella con la testa più grande in assoluto ragazzi questo pop è qualcosa di spettacolare davvero credetemi spettacolare gli occhiali hanno delle vere lenti che vanno ad ingrandire gli occhi del pop e si nota credo anche dalla videocamera fanno davvero un gran bell'effetto i vestiti il maglione oversize che cade quasi fino alle ginocchia è stato riprodotto fedelmente anche la trama tiene la sfera tra le mani anche questo dettaglio che mi piace tantissimo e poi la fascia identica a quella che indossa Emma Thompson nel film quindi ragazzi è davvero un pop spettacolare secondo me il più bello di tutta questa wave di tutte queste due nuove wave e vi dirò la verità secondo me è più bello anche rispetto ai pop del comic con che abbiamo visto quest'anno davvero un pop che vale assolutamente la pena prendere io ve lo straconsiglio se dovessi sceglierne solo uno tra tutti queste petti finora questo sarebbe sicuramente la mia scelta al 100% ultima scatola all'interno dello scatolone anche questa bella cicciotta vediamo cosa contiene qui ci sono due pezzi grossi qui abbiamo l'esclusiva New York Comic Con di Madame Maxime che era assolutamente un pop che mi aspettavo facessero prima o poi e poi abbiamo anche la capanna di Hagrid che adesso andiamo a guardare con calma intanto apriamo questo pop che è un pop da 6 pollici quindi per intenderci è della stessa dimensione di Hagrid e questa cosa vi dirò la verità mi ha fatto stoccere leggermente il naso perché secondo me Madame Maxime dovevano farla almeno 2-3 cm più alta rispetto ad Hagrid anche perché all'interno della scatola ci sarebbe comunque entrata tranquillamente e quindi allungarla di qualche centimetro non sarebbe stato poi questo gran dramma quindi vedremo quando lo metterò esposto magari proverò a mettere un rialzino di sotto per simulare l'effetto dell'altezza ma intanto apriamola e vediamola meglio anche lei eccola ragazzi è molto bella nulla da dire non ha la bocca ogni tanto la fanno ogni tanto non la fanno va bene così il vestito è molto molto ben elaborato molto ben scolpito su questo nulla da dire è anche dipinto abbastanza bene l'effetto delle scaglie sul vestito anche il taglio di capelli è molto somigliante devo dire magari avrebbero potuto aggiungere qualche rughetta perché sembra molto giovane ma la cosa che mi dà appunto fastidio è che guardate c'era davvero tantissimo tantissimo tanto spazio sulla all'interno della scatola però è stata fatta abbastanza bassa non è neanche alta quanto Hagrid penso forse addirittura qualcosina meno e questa cosa non mi fa impazzire perché lei è più alta di Hagrid e sarebbe bastato davvero poco anche allungare di due dita sotto la parte finale del pop senza cambiare nulla nella parte alta e già l'effetto sarebbe stato diverso in ogni caso messa vicino a Flair la differenza si nota è abbastanza più alta però un po' mi dispiace devo dirvi la verità non riesco a dirvi bello bellissimo ma un pochino mi spiace in ogni caso pop che bisogna assolutamente prendere anche perché io li prendo tutti quelli dei nuovi personaggi quindi che ve lo dico a fare ultimo pop da unboxare eccolo qui abbiamo Thor con la cabana di Hagrid questo non è un v-pack questo non è un movie moment ma è un pop di una nuova serie che è stata definita town quindi abbiamo un pop abbinato ad una casa ad un edificio ad una costruzione in questo caso abbiamo la capanna di Hagrid con Thor io avevo il mystery mini di Thor però credo che lo andrò proprio a sostituire con questo qui che è più grande e più vicino alle proporzioni reali del cane almeno quello che ci viene raccontato nei libri invece nel film diciamo che l'hanno leggermente ridimensionato e adesso lo andiamo a tirare fuori dalla box sperando che prima o poi magari facciano un bel castello di Hogwarts ancora meglio se diviso in due parti così verrebbe un po' più grande ed ecco anche loro due fuori dalla box Thor è davvero molto molto carino dietro anche la codina è seduto sulle zampe posteriori è davvero scolpito molto molto bene mi piace tanto mi piace devo dire più del misteri mini che già mi andava bene perché non era malaccio però questo qui direi che è più proporzionato davvero e quindi sono contentissimo che abbiano abbinato alla capanna Thor e che invece non abbiano messo un'altra versione di Hagrid meglio un personaggio differente e a proposito della capanna ragazzi pesa tantissimo sotto addirittura quattro viti quindi è piena all'interno e devo dire che è scolpita molto 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 bene è dipinta altrettanto bene sembra un po' diciamo la casa di un ognomo però è davvero molto bella abbiamo anche l'ascia con il ceppo qui davanti alla porta d'ingresso della casa e sono assolutamente felicissimo di averla presa ero in dubbio ma non mi pento assolutamente anzi ve la straconsiglio perché è un pezzo davvero molto molto bello da mettere vicino agli altri pop magari mettendolo un po' distante rispetto ai pop non posizionandoli proprio accanto potrebbe anche dare il senso della proporzione diciamo che per questa serie di town quindi per questi edifici sarei assolutamente disposto a chiudere un occhio sulla mia mania delle proporzioni magari chissà potrebbero fare anche non proprio un edificio in questo caso ma potrebbero anche fare il nottetempo potrebbero anche fare ad esempio la stambega strillante potrebbero fare i pub i negozi negozio di olivander ragazzi fanco potrebbe spaziare davvero su qualsiasi cosa l'unico limite sarebbe solamente lo spazio ma poi devo dire che qualsiasi cosa sarebbe ben accetta bene ragazzi io vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate qual è il vostro pezzo preferito tra tutti quelli che vi ho mostrato in questo unboxing io vi ricordo ancora una volta sotto in infobox il codice sconto da usare su mini bigot collectibles tutti i loro riferimenti e vi chiedo anche di seguirmi su instagram antonio.seria perché pubblico sempre tante novità tanti spoiler dibatti di discussioni c'è sempre qualche novità sul mio instagram e ragazzi naturalmente una cosa che mi è sempre molto utile è lasciare un mi piace commentare iscrivervi per non foste ancora iscritti condividere il video con i vostri amici e sempre in infobox trovate anche la mia vetrina amazon dove troverete un negozio realizzato interamente da me a tema nerd con funk o pop ma anche con libri fumetti roba noble collection ho categorizzato tutto davvero ci ho messo tanto tempo e qualunque acquisto effettuato tramite il mio link quindi basterà cliccare sul link e comprare anche al di fuori dal mio negozio ma sempre su amazon qualsiasi cosa acquisterete amazon mi riconoscerà una piccolissima commissione che però può aiutarmi nel realizzare nel migliorare sempre di più la qualità dei video ragazzi io ce la sto mettendo tutta e presto arriverà anche il video aggiornato della collezione prima di natale prima della piccola pausa natalizia sicuramente lo pubblicherò ve lo prometto adesso non mi resta che andare a riporre questi pop qui alle mie spalle anzi direi che prima dovrò dare una bella spolverata perché mi tocca ogni tanto e naturalmente noi ci rivediamo qui presto con tantissime altre novità ciao 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 ciao